666 RECORDBOX alla maniera di Piero Pelù amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude è arrivato l'aggiornamento alla 6.6.6 di RECORDBOX ma non solo questo perché all'interno c'è una firmware update manager che andremo a capire a cosa ci servirà ma non solo parliamo anche di MacOS Ventura 13 quindi attenzione attenzione andiamo a vedere tutto quello che ci serve sapere la RECORDBOX 6.6.6 questo numero magico per molti aspetti è stata rilasciata la compatibilità con la DDJ FLX4 è stata aggiunta ma questo ne avevamo già parlato perché abbiamo fatto un video riguardante la nuova console entry level se te lo sei perso puoi vederlo qua della Pioneer DJ quindi la nuova DDJ 400 2.0 anyway parliamo di RECORDBOX di questo aggiornamento e vediamo che cosa ha aggiunto perché oltre a questo c'è l'aggiornamento del firmware update manager di che cosa si tratta? quando andrete ad aprire e installare la vostra versione 6.6.6 vi troverete probabilmente a questa finestra di fronte a questa finestra il gestore aggiornamento del firmware cioè le notifiche automatiche per gli aggiornamenti del firmware che cosa consiste? Se utilizzi questo nuovo firmware update manager andandolo ad installare qua oppure anche più tardi riceverai automaticamente una notifica quando gli aggiornamenti del firmware saranno disponibili per tutti i prodotti Pioneer DJ che colleghi al tuo pc barra mac tramite usb. Devi installare questo strumento solamente una volta sul tuo pc mac per abilitare le notifiche automatiche per tutti i prodotti Pioneer DJ attuali e futuri con una connessione usb. Quando un aggiornamento sarà disponibile dovrai comunque installarlo da solo niente verrà installato automaticamente quindi avrai sempre il controllo. Per avere maggiori informazioni potete cliccare qui installarlo ora oppure installarlo più tardi. La situazione di record box potete controllarla se avete già installato non vi ricordate informazioni su record box e controllate l'ultima versione installata. Se invece non vi è comparsa la finestra potete andarvi a cercare gestore aggiornamenti di record box cliccando qui e potete controllare la versione attualmente in uso. Anyway le altre funzioni come detto di DJ FLX qua traggiunte il firmware update manager che abbiamo visto le migliorie dell'icona active sensor nell'elenco brani adesso la precedenza sull'icone analisi phrase analisi posizione vocal problemi risolti quando si visualizza la schermata dal menu tutorial la riproduzione dei brani potrebbe ripetersi. A volte BPM cambiava durante l'uso di sleep reverse con la modalità relative dvs col sync attivato e stabilità migliorata e riparati altri guasti minori. Molto molto bene ma abbiamo parlato nell'intro anche di macOS ventura dell'aggiornamento quanti di voi l'avranno già fatto smaniosi di avere il nuovo sistema operativo di macOS ma come sempre bisogna avere un po di pazienza perché come dice anche la pagina delle notizie di record box la compatibilità con macOS ventura attualmente stiamo esaminando compatibilità dei nostri software e hardware con macOS 13 ventura forniremo aggiornamenti quando avremo completato i nostri test fino ad allora non possiamo garantire la compatibilità dei nostri prodotti con il sistema operativo. Aspetta tatuatevelo dunque la nostra conferma di compatibilità prima di seguire l'aggiornamento a macOS ventura lo dico perché molti partono in tromba badabam e poi non li va più nulla e poi oh Claude ma come mai mi va il record box eccoci. Inoltre compatibilità con ios 16 ipad os 16 attualmente idem stiamo esaminando la compatibilità dei nostri software e hardware con ios 16 ipad os 16 forniremo aggiornamenti quando avremo completato i nostri test fino ad allora non possiamo garantire la compatibilità dei nostri prodotti con il sistema operativo aspetta dunque la nostra conferma di compatibilità prima di eseguire l'aggiornamento a ios 16 ipad os 16 dove l'abbiamo detto è quindi diamanti di record box potete fare il vostro aggiornamento alla 6.6.6 e poi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Corsi per dj, corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social facebook ed instagram per chi sono indicati i corsi per chi è già bravo e vuole migliorarsi per chi inizia da zero per chi vuole fare il salto definitivo di qualità verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati da ss4dj dal nostro canale quindi hardware software e tutte le vostre problematiche quello che non vi torna compreso tutte le tematiche burocratiche e legali importantissimo per i dj e per i produttori oltre a facebook e instagram c'è la nostra community telegram gratuita puoi farne parte già da subito con notifiche silenziosi ed una chat interna il nostro canale youtube se ancora non ti sei iscritto gravissimo puoi farlo adesso iscriviti 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 ci darei una grossa mano a crescere e a darvi sempre tantissimi video veramente tantissimi tantissimi di ogni genere ma soprattutto relativi solo ai dj e la produzione musicale quindi tutta la dj's life compreso tutti i software le news le recensioni e tutto ciò che interessa il nostro fantastico mondo tutto diviso in playlist quindi cosa c'è di più comodo compreso la playlist per suonare in regola c'è anche il nostro negozio con l'ufficio al merchandising con la linea sos for dj la linea anyway la linea i play what i like ossia suono solo quello che mi piace puoi attivare la campanella per essere informato su tutti i nuovi video su tutte le attività nuove live streaming dirette nuovi spoiler tutto ciò che accade sul canale ma puoi mettere anche mi piace o condividere con i tuoi amici o con i tuoi colleghi se pensi che tutto ciò sia importante e utile per loro ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite il tasto super grazie qua sotto o sostieni sos for dj qui record box 6.6.6 aggiunte pochissime cose quindi dj fl x4 e questo improve update manager ma poi risolti anche qualche baghettine qualcosa che non funzionava insomma c'è sempre sul pezzo ci fa piacere fatemi sapere ovviamente la vostra opinione qui sotto nei commenti da parte di sos for dj ecco vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata ovunque voi siate ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere offrirvi tutto questo ovviamente gratis e anche ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro mio premio grazie grazie